Quello appena trascorso è stato un anno intenso per i carabinieri di Piacenza che dal 1 gennaio al 30 novembre 2018, nell'attività di controllo del territorio, hanno effettuato oltre 16.000 pattuglie e per lustrazioni nel corso delle quali sono state identificate più di 80.000 persone e controllati 52.000 veicoli. Significative davvero sono a riguardo anche le oltre 92.000 chiamate pervenute alla centrale operativa del comando provinciale di Piacenza attraverso il numero di pronto intervento 112 cui sono seguiti oltre 8.000 interventi di soccorso per reati e per privati dissidi. Con riferimento allo stesso periodo si evidenzia l'efficace azione delle stazioni e delle componenti investigative che a fronte di una diminuzione dei delitti consumati ha fatto però registrare una sensibile crescita degli arresti rispetto al già importante dato dello scorso anno superando i 400 provvedimenti. Per quanto riguarda più in generale i reati scoperti siamo a quota 1.600 con 2.000 denunce circa. Importante lo sforzo profuso nel contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Infatti nell'anno in corso sono state deferite alla Procura della Repubblica di Piacenza ben 280 persone di cui un centinaio in stato di libertà e 167 in stato di arresto mentre sono stati segnalati alla Prefettura piacentina quasi 500 assuntori di cui 20 minorenni. Inoltre sono stati sequestrati 30 chilogrammi di droga. In calo anche le rapine 55 nel 2018 per le quali sono state arrestate 20 persone denunciate 21. Inoltre al mese di novembre sono state arrestate complessivamente 195 persone a seguito di misure cautelari emesse dall'autorità giudiziaria. Un bilancio estremamente lusinghiero per i carabinieri di Piacenza che si confermano protagonisti di un'ordinata e civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione, le investigazioni per il contrasto alle manifestazioni delittuose e i servizi di mantenimento dell'ordine pubblico.